Grazie Presidente. Innanzitutto dobbiamo fare un po' di chiarezza per quanto riguarda le sponde e il fiume sono di competenza regionale. Questa è una cosa importante, però questa amministrazione ha ritenuto il tema Tevere un tema molto importante, tanto che ha costituito questo ufficio speciale Tevere sul cui si è lavorato moltissimo. Do una notizia all'Aula in questo momento, in questi giorni si sta effettuando una selezione tra componenti della Polizia Locale per creare un reparto specifico che sia alle dipendenze sotto l'organizzazione dell'ufficio speciale Tevere. Stiamo parlando di 40 persone, non poche, per cui voglio dire che questa amministrazione sta cercando di mettere il massimo impegno per far rivivere il Tevere e dargli nuovamente il decoro. Il punto vero è che il lavoro viene fatto interistituzionale. Quello che viene detto anche con il secondo capoverso, ma in realtà ci si sta già lavorando allacremente perché è stato già stilato un protocollo d'intesa con la Regione Lazio e tra l'altro uno dei temi fondamentali, quello che diciamo normalmente dà maggiore forza a dover rinvigorire e dare maggior risalto a un argomento come quello del Tevere, è il contratto di fiume e anche sul contratto di fiume si sta lavorando e si sta lavorando parecchio. Per cui noi ci ritroviamo nella condizione che in realtà ciò che viene richiesto in questa mozione di fatto lo si sta facendo proprio adesso, già con la selezione delle 40 persone nella selezione della Polizia Locale e sia nei rapporti che ci sono con tutte quante le altre istituzioni. Questo è un argomento per noi molto importante come l'anno scorso, sì è vero ad agosto, però abbiamo aperto una spiaggia sul Tevere, una cosa che non era mai stata fatta prima e che hanno fatto, invece fanno con regolarità molte città in Europa. Questa adesso a breve verrà fatto, e vabbè, a breve verrà fatto anche di nuovo, ci saranno nuovamente i romani che potranno andare a prendere il sole in consume sulle rive del Tevere. Ricordo che l'anno scorso abbiamo tolto 80 camion di rifiuti per fare quella spiaggia, 80 camion di rifiuti, tutte azioni che avrebbero potuto fare altre amministrazioni e non hanno fatto. Pertanto noi a questa mozione ci asseniamo. Grazie.